Musica Un'operazione di polizia in collaborazione tra il commissario Atutustuni e quello di Taurisano, vittima di un rapimento dalla struttura La Nostra Famiglia della Città Bianca, una piccola di due anni e mezzo. L'esito fausto dell'attività investigativa è sicuramente merito di un'azione sinergica, di una strategia investigativa che è stata condotta dal commissariato di Atutustuni ma anche dal commissariato di Taurisano in provincia di Lecce. Ciò perché le persone interessate alla vicenda criminosa sono originari di quella zona, del Basso Salento. Infatti a rapire la bambina è stata la stessa mamma, una persona con qualche problema, anche di tossicodipendenza e che appunto con la complicità del suo attuale compagno un 61enne pluriprogiudicato di Ugento è riuscito a deludere la sorveglianza degli operatrici e degli operatori della nostra famiglia dove la bambina era ricoverata appunto perché è tolta la mamma, perché è ormai non più idonea al ruolo genitoriale dal Tribunale di Lecce la mamma è riuscita a rapire questa bambina e purtroppo con modalità devo dire davvero raccapriccianti perché non ha esitato a lasciare cadere nel vuoto la piccola da circa 6 metri d'altezza presa al volo dal complice, questo pluriprogiudicato anziano di Ugento che si era appunto piazzato si era allocato esattamente sotto la perpendicolare del balcone da dove la piccola è stata lanciata e l'ha presa al volo quindi poi è stata la volta della mamma che si è librata nel vuoto lasciandosi cadere e cadendo di peso sul cofono della vettura che lo stesso criminale aveva piazzato sotto il balcone cadendo di spalle, rimbalzando, carambolando e battendo addirittura contro una colonna per cui era venuta al suolo definitivamente ecco che poi c'è stata la fuga all'estero ovviamente il tutto si innesta in un piano criminoso preordinato, preorganizzato in ogni dettaglio di fatti noi siamo riusciti con tutta una serie di attività investigative su Ostuni ma anche nel Salento a cogliere elementi grazie ai quali con la collaborazione che è stata decisiva quella della direzione centrale della polizia criminale, della polizia di stato, del ministero dell'interno quindi è stato possibile, dicevo, localizzare all'estero con la collaborazione dell'autorità tedesca la piccola che è stata bloccata e quindi la copia è stata bloccata, la piccola è stata recuperata e siamo quindi adesso in attesa che torni in patria